Ma come è possibile che nell'era digitale ancora qualcuno si lamenta per il lavoro Il lavoro ormai è social, è smart, è green Che poi, insomma, vuol dire precario Basta con il posto fisso Si lavora solo quando serve Sì, agli altri Più tempo libero da passare sui social, sul web, sulla rete Insomma, in una gabbia medialica Eppure i sindacati ci sono Il primo maggio si canta in piazza E il venerdì sciopero Così Il weekend di